Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al recap ciclico di quanto è successo sulla borsa oggi. Prima faccio una piccola escursus molto rapido, una piccola considerazione sulla differenza tra voler essere un giocatore e rimanere a fare eventualmente carta da parati o peggio. Vi ringrazio innanzitutto per il fatto che in pochissimo tempo, meno di un mese, il canale sta crescendo tantissimo perché abbiamo superato le 380 persone che desiderano formarsi e comprendere come funziona l'analisi ciclica e voluta. E tanto, non mi aspettavo un risconto di questo tipo, sinceramente. Però è divertente anche ed è estremamente stimolante andare a vedere sotto le analisi postate e notare che c'è sempre un pollice verso. Una persona su più di 380 viene a perdere il suo tempo a mettere un pollice verso sotto tutte le analisi che faccio. Bene, mi fa piacere questa cosa perché per me è uno stimolo fantastico a proseguire nella divulgazione della ciclica e voluta anche perché dimostrano i fatti che ci sono vari tipi di persone. Alcune, semplicemente, non hanno obiettivi così chiari nella vita oppure sono troppo interessate a dare fastidio piuttosto che a imparare. Il mio suggerimento è, dato che siamo alla risultanza delle 5 persone che frequentiamo di più, frequentate persone intelligenti. Ok, torniamo all'analisi. Allora, alla partenza siamo partiti qui alle 9.01. Cosa è successo? Abbiamo ribadito il discorso della finta di partenza e siamo partiti a rialzo. Poi candela contraria, candela rialzo, candela contraria, candela contraria. Quindi, perché mediamente partiamo a fare trading da dopo le 10? Dalle 10 al 0.01? Perché prima si sale, poi si scende, poi si sale, poi si scende, poi si scende di nuovo. Quindi finte contro finte. Uh, ragazzi, calma. Poi lateralizzazione, poi di nuovo salita. E a questo punto raccontiamo che cosa abbiamo fatto. Come segnalato nell'analisi di questa mattina, dato che non c'è stata una violazione di questo minimo, c'è stata subito forza con spinta volumetrica a rialzo, abbiamo fissato il nostro swing qua a 10.713 rispetto ai 10.698 che avevamo fatto. E in violazione dello stesso, con volumi, siamo entrati. E quindi, disgraziatamente, tra le argolette, siamo entrati in violazione dei 713. Abbiamo fatto 7 ticchi in su, poi una candela che ci ha portato qualche altro ticchi in su, e poi partita la discesa. Ma, attenzione, interessante, dato che la ciclica evoluta non è come la vecchia ciclica, perché, tra tutti i motivi che sapete, tante cose in più, volumi, divergenze, tutto ciò che significa flussi di denaro inclusi, che non sono inclusi lì, gan, tutto gan, incluso nell'algoritmo proprietario che ho solo io, perfetto, il nostro stop era sotto questo swing inverso. Siamo andati in stop loss? No. Abbiamo però dovuto avere tanta pazienza per ritornare sopra lo swing da cui ha partito il nostro trade, andare a fare nuovi massimi e eventualmente accontentarci di essersi avvicinati molto al target dato a 10.751.52, dato dall'algoritmo, e qui siamo arrivati a 746, a 6 soli tic di distanza. Purtroppo, ero con mia figlia, era durante il pranzo, non ho visto candela rossa, candela verde, candela rossa, noia pazzesca perché si è ritornati sotto il punto di entrata a 713, e si è fatto un minimo a 796, ma ok, 23 tic sono gestibili, d'accordo, soprattutto se si lavora e si fa trading professionalmente da tanto tempo. È una bazzecola. Era più fastidioso questo movimento. Siamo ritornati a salire, a quel punto arrivati sopra la media mobile a 50 periodi e essendo finalmente arrivati a target, perché abbiamo fatto 10.759 contro i 10.752 dati dall'algoritmo, quando ho iniziato a vedere rosso, quando ho pensato, caspiterina, media mobile a 200 periodi, uscito gain. Magari non tantissimo, ma da 713 a 743, sono comunque 30 tic, anzi, in realtà sono uscito un pochino sopra quando c'è stata la violazione poi della media mobile. Quindi 700, devo andare a vedere, comunque a toni 747, se non mi ricordo male. Comunque abbiamo portato a casa il nostro dopo finte, controfinte, lateralizzazione, tutto quello che volete. Successivamente discesa, fortissima, minimo fatto tra l'altro quasi sul livello inferiore dell'accumulo e ripartenza dal solato, ma di nuovo spinta, spinta, finta, molto vicina di nuovo ad andare sotto i due minimi e poi di nuovo ripartenza a rialzo. Se non l'avete notato, in questi giorni è estremamente difficile fare trading, perché avete candele verdi, candele rosse, candele verdi, candele rosse, candele verdi, candele rosse, candele verdi, verdi finalmente, tutte rosse, verde, rossa, risalita, e per questo motivo ho dovuto lasciare in sospeso quello che sta succedendo, ovvero, perché qui vedete tutti questi punti di domanda dappertutto? Perché qui possono esserci stati 3 t-3, avendo fatto 75 barre, quindi 24, 48, 72, ok? 3 cicli da 24 barre, da 6 ore, oppure anche soltanto 2, ovvero, 2 giornalieri, 1 partito qui arrivato a 37, e 2 arrivato qui, che è chiuso a 38. Quale delle duecentrature scegliete e perché? Io per ora sceglierei questa, per determinati motivi relativi all'inverso, ok? Però mi lascio comunque le altre aperte e quindi lascio i punti di domanda. Stessa identica cosa per l'inverso, da qui a qui non ci sono problemi, ma qui abbiamo chiuso su questo massimo, che per me, a me non piace per niente, oppure abbiamo chiuso su quest'altro massimo, a 34 barre, contro invece qui le 23 barre, o cosa, perché dove mi piacerebbe di più che partisse, e potrebbe ancora partire, in questo momento non torna come questo quinto t-3 da 26 barre, ovvero, se per ora faccio partire da questo massimo, e arrivo fino a qua, ne ho 16 di barre, e quindi, è vero che adesso vedo a monitor che dopo una forte discesa stiamo di nuovo ritornando su e facendo finte in continuazione, ok? Però non è scontato, per cui questo è fare trading in questo periodo, ma di nuovo, cosa vi avevo detto anche questa mattina e ieri sera, privilegiate il pro trend, privilegiate qualcuno che vi sappia dire dove andare a posizionare gli stop loss e di quanto andarli a posizionare, in questo caso, se lo ascolterete fino alla fine, se farete esattamente quello che fa lui, o lei, capirete effettivamente la sua valenza e vedrete dei risultati che possono essere certificati, se invece farete di testa vostra e entrerete, vedrete che le cose vanno bene e poi stanno iniziando ad andare male, o attenzione, no, non voglio andare in stop loss, non metto lo stop loss dove mi viene suggerito, lo metto da una... rischiate di andare soltanto a fare danni. Se avete scelto di affidarvi a qualcuno, affidatevi ad occhi chiusi, so che non è facile, ma caspita, se vado anche soltanto a farvi vedere determinate cose, scusate, no, questa non funziona, fantastico, lasciamo perdere, in generale, fate un piccolo atto di fede, è difficilissimo nei nostri giorni, ma se lo fate e verrete ripagati, continuate a fidarvi fino a quando non potrete fare da soli. Finiamo da questa parte, qui invece la situazione è molto più triste, purtroppo, se verrà confermato il fatto che sarà partito il T-2, anzi, eventualmente un nuovo settimanale, qui, dal minimo a 10.000... scusate, 17.230, scusate, 17.082, e qui abbiamo fatto 93, abbiamo su Fuzzimibu una forza relativa veramente estremamente bassa rispetto a Dax e Standard & Poor's, abbiamo rischiato già con eventualmente il primo T-2 di andare già sotto il minimo di partenza, è grave, significa che non c'è forza, non c'è spinta, se guardate qui, il Dax sta rischiando di andare di nuovo in Golden Cross, sta facendo tante finte e tante lateralizzazioni, ok, ma qui il Fuzzimibu dopo il Death Cross sta uncinando verso basso con tutte e due le medie mobili, sta rimanendo più tempo sotto l'accumo che sopra come era prima durante la partenza, questa è una partenza moscissima, che potrebbe persino rischiare di far appartenere questo T-2 al precedente T settimanale, è forse un po' una forzatura, ma neanche tanto, perché nella realtà dei fatti non ci stiamo schiodando da questo livello, o da questo dove ha chiuso l'ottavo T-3, siamo sempre lì, per cui fate attenzione, qui, su Fuzzimibu, se andassimo sotto questo minimo, valutate con i tempi ciclici corretti di andare short, non long, come invece stiamo facendo su DAX, ok, è importante che queste cose vengano fatte notare, altra cosa anche qui, fate sempre attenzione, aggiorniamo la centratura, in partenza di mattinata abbiamo fatto alle 9 un ciclo, un terzo T-3 che è già il bassista, è una fetecchia, sostanzialmente, scusate il termine poco evoluto, e anche qui aggiorniamo e mettiamo in verso, c'è poco da dire su Fuzzimibu e non potendo andare short il suggerimento è rimanete su DAX, è più comodo, potete muovervi in entrambi i modi, io non ho mai abbandonato il Fuzzimibu nella sua storia, perché ho sempre fatto trading, soprattutto su quello che mi chiedevano le persone, ovvero su Fuzzimibu, ma se mi mettono delle regole, dei paletti per cui non posso andare short, preferisco privilegiare DAX, a beneficio di tutti peraltro, perché le richieste sono Fuzzimibu in primis e eventualmente DAX. Vi ringrazio per l'ascolto e se l'analisi vi è piaciuta e l'avete trovata completa, mettete un like, sottoscrivete il canale, cliccate sulla campanellina per avere eventualmente gli aggiornamenti oppure raggiungetemi sui due gruppi Facebook che ho con Financial Armor, anche perché soltanto poi in altri casi si possono fare determinate altre cose. Vi ringrazio per l'ascolto, buona serata a tutti.